Verificare lo stato dell'iter per l'avvio dei lavori di ripristino della funzionalità del porto rifugio di Gela dopo la firma dell'intesa tra Regione Sicilia e Eni Comune per l'impegno del finanziamento di 6 milioni di euro per il dragaggio dell'intero specchio d'acqua del porto con l'allungamento del braccio di Ponente. E' quanto dibattuto questa mattina dal gruppo di lavoro del porto su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Acia. A seguito della riunione che abbiamo avuto stamattina con il gruppo di lavoro sui lavori del porto insieme all'assessore siciliano purtroppo sono state desertate sia dalla protezione civile che dalla capitaneria di porto e l'unica notizia che abbiamo grazie al contributo dell'assessore e a una telefonata con l'ingegnere Giamo Calafato è che la situazione purtroppo ancora oggi è ferma. Questo è un dato preoccupante e non vorremmo sicuramente creare allarmismo per questo motivo però certo è che l'attenzione deve rimanere alta e che se c'è un iter che già si è avviato grazie alla firma di quell'accordo insieme al Presidente della Regione e all'amministrazione comunale si deve trovare il modo affinché l'iter amministrativo non venga bloccato all'interno degli uffici perché ancora siamo fermi al piano di ricaratterizzazione che deve essere già avviato e nonostante le autorizzazioni devono venire dal Ministero delle Infrastrutture e dell'Ambiente. L'amministrazione comunale il 4 novembre ha inviato una nota dove chiede di conoscere in maniera dettagliata qual è il litro amministrativo e i passaggi che vengono attivati ma ancora non abbiamo nessuna risposta. A seguito della riunione abbiamo deciso insieme all'assessore siciliano di mandargli un'ulteriore nota al Presidente della Regione dove lo invitiamo a convocarci e a convocare unitamente a quella riunione e anche alla protezione civile per sapere quali sono i problemi che fino ad oggi ci sono stati per non far partire questo piano di caratterizzazione. Così come avevo già preannunciato alcune titubanze a seguito della firma dell'accordo non sulla volontà esplicita del Presidente di Eni o nostra di volere quest'opera ripristinata sul territorio ma quanto sul rischio che all'interno dei dipartimenti regionali si possono insinuare dalle pieghe della burocrazia dei comportamenti che attengono più ad una politica di vecchio stampo che sicuramente non vedono questo territorio avvantaggiato rispetto ad altri. Sono certo che il Presidente ricevendo la nota da parte del Sindaco in merito ad un sollecito sullo stato di avanzamento del porto possa fare di tutto affinché si sblocchi l'avvio dei cantieri. Non abbiamo avuto quello che volevamo, cioè i tempi certi, dei tempi certi per quando iniziano questi benedetti lavori perché la città è stanga, siamo stanchi, vogliamo il porto. Il Comitato del Porto sicuramente chiederà una riunione a Palermo, alla Regione e vorremmo incontrare direttamente il Presidente per sapere a che punto è questo ITER.